Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Lady Diana, scoop clamoroso sulla mamma di Harry e William, dopo 25 anni viene fuori l'accordo fatto proprio con lui Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei, che è presa in giro Lady Diana, l'iconica principessa del Galles, ha portato con sé un insospettabile segreto Dopo 25 anni salta fuori l'accordo fatto proprio con lui. I dettagli Lady Diana, la principessa del popolo.Diana Spencer, conosciuta al mondo come Lady È stata la principessa del Galles e moglie del futuro ereda al trono d'Inghilterra, il principe Carlo Purtroppo quello di Carlo e Diana è stato uno dei matrimoni più tristi e infelici della famiglia reale inglese La principessa del Galles non è mai stata felice accanto al figlio prediletto della regina Elisabetta che l'ha ferita più volte con tradimenti extracognugali La sua amante, da sempre, è Camilla Parker.Diana era consapevole dell'attresca sentimentale di suo marito e quando finalmente nel 1997 decide di riprendere in mano la sua vita e di ricominciare da sola, lontano da Palazzo Reale, un terribile incidente stradale la strappa per sempre alla vita terrena Aveva solo 36 anni quando il 31 agosto del 1997, nel tunnel del Ponte dell'Alma, a Parigi, perde la vita insieme a Dodi Al-Fayel Dopo 25 anni viene fuori un segreto di cui nessuno sapeva nulla, la principessa Diana aveva un accordo segreto proprio con lui L'accordo segreto della principessa viene svelato.Il 31 agosto 1997 Lady Diana perdeva la vita in un terribile incidente automobilistico nel tunnel del Ponte dell'Alma a Parigi, mentre era in auto con Dodi Al-Fayel, l'uomo con il quale aveva cercato di ricostruirsi una vita In realtà, 25 anni dopo, viene fuori un terribile segreto che la principessa ha custodito per tempo, Dodi Al-Fayel non era davvero l'uomo con il quale Lady Diana aveva intenzione di ricominciare a vivere Ma la sua relazione con lui è iniziata col solo scopo di fare ingelosire l'unico vero amore della sua vita, Asnat Khan, un cardiochirurgo di origine pakistana con il quale la principessa aveva iniziato una relazione segreta e clandestina Anche il famoso scatto che ritrae Lady Diana sullo yacht di Dodi Al-Fayel era stato organizzato dalla stessa principessa la quale aveva avvisato personalmente i paparazzi della sua presenza sulla barca del noto miliardario solo per far sì che le foto arrivassero al suo amore Asnat e Diana si sono conosciuti in ospedale, quando la principessa ha fatto visita ad una coppia di amici Tra di loro è stato amore a prima vista, dopo poco tempo dal primo incontro, i due hanno iniziato una relazione segreta vissuta tra le stanze di Kensington Palace e talvolta, in un piccolo appartamento situato a Chelsea dove Asnat viveva da solo e nel quale Diana si recava spesso per svolgere faccende domestiche e prendersi cura del suo cardiochirurgo Insomma, dopo 25 anni viene fuori una verità scomoda che nessuno avrebbe mai potuto immaginare Lady Diana ha preso in giro Dodi Al-Fayel? Aveva una doppia relazione? Con Asnat c'era un accordo di segretezza e non divulgazione? E per quale ragione? Queste e altre domande per il momento restano senza risposta Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao